Oh, just come on, oh, oh, yeah Questa canzone si chiama Embrace the Future Sentite un po' Mamma mia sto microfono Buongiorno ragazzuoli Oggi il protagonistone della giornata, anzi della mattinata Perché sono le 7.45 del mattino qui in Italia Oggi il protagonistone è lui Questo microfono che mi è stato inviato un mesetto fa Dalla TZ Audio Products Mi ha contattato il titolare della TZ Della Techzone Audio Products Che è un'azienda americana della California Sono andato sul sito, mi sono informato E vi lascio qui il link in descrizione Mi ha contattato Dolly, Dolly Alderton E mi ha fatto, insomma, i suoi complimenti Mi ha detto che mi segue da tantissimo tempo Ha detto che io propongo dei contenuti audiovisivi fantastici E secondo lui, insomma, ha cercato di tirare l'acqua su un mulino Facendomi una proposta Chiedendomi appunto di partecipare al programma di partnership Dove io appunto pubblico sempre dei contenuti audiovisivi Ma con questo microfono In primo piano, giustamente E loro mi pagano Perché è un programma proprio fatto apposta di partnership Dove gli artisti Che sono artisti, ragazzi Dove loro mettono anima e corpo Cioè il musicista Il musicista che poi qui in Italia Sappiamo come viene visto il musicista Ma quando uno mette anima e corpo nelle cose E lo fa diventare una vera e propria professione Oltre che passione Allora poi avvengono queste cose Ok? Che ti contattano le aziende Ti fanno delle proposte E poi lì si incomincia a ragionare per bene Si incomincia a capire anche due cose Questo è quello che faccio da quando ho 13 anni E lo porterò avanti per il resto dei miei giorni Personalmente parlando È un microfono che secondo me è costruito in maniera veramente ottima Un microfono solido Un condenser cardioide Quindi la sua presa di visione È 180 gradi In fase positiva naturalmente Poi nel momento in cui Io vado oltre il lato Quindi vado qui Sentite che qui va in controfase Quindi fa tipo effetto radiolina Perde la sua corposità Perde i bassi E poi quando mi avvicino qua Ritorna in fase È anche ottimo perché Alla fine quando hai a destra e a sinistra Dei monitor O comunque Dei musicisti insomma Che stanno suonando Non ritorna il suono Naturalmente qui sono in studio di registrazione In un altro contesto però A me la cosa che interessa Più di tutto È quando sono andato a vedere appunto Nella descrizione Mi sono andato a informare La cosa che mi interessa È il tipo di capsula Che è montata Una capsula Quando tu vai a leggere Gold spattered 34 millimetres K67 style E quando appunto Vai a leggere Gold spattered Capisci che è una capsula Spruzzata con dell'oro Spattered Ok Quindi è stata Rifinita con dei particolari In oro E vai a leggere Vai a informarti Su internet Praticamente vedi Che è stata usata In degli album Da artisti In un periodo storico Negli anni 80 Anche anni 90 Direttamente dai microfoni Della Newman È stata utilizzata Da questi Newman Che hanno poi Registrato Degli artisti Fenomenali Ok E si sta parlando Di anni 80 Anni 90 Dove In America Se ne registrava Di roba E i Newman Sono stati Un grandissimo punto Di riferimento Nel mondo della registrazione Soprattutto Appunto Nel contesto vocale Questa qui È la valigetta Che mi hanno Che mi hanno consegnato Questo è il modello Stellar X2 Io quando l'ho ricevuto Ragazzi Ho detto Questo è Una figata di microfono Qui c'era Il mounting system Che è bello solido Molto bello solido Il microfono C'era la spugna E poi ci sono anche Naturalmente Le caratteristiche La cosa che Sinceramente Mi è piaciuta Molto È questo bel foglietto Dove ti fa vedere Esattamente Tutti i test Che gli hanno fatto 14 ore Burning test Sarebbe praticamente Il rodaggio Che fanno fare A un microfono Come si fa fare Un rodaggio A un motore Si fa fare appunto Il rodaggio Anche al microfono Poi gli hanno fatto fare Polarization voltage Voltaggio della polarizzazione Frequency sweep Praticamente Frequency sweep Sarebbe come Prendere la campanatura Di una frequenza Inizialmente Quando io voglio Togliere tipo Delle frequenze Fastidiose Loro invece Vogliono sentire Che tutto vada A posto Quindi Semplicemente Hanno fatto Un test Delle frequenze Tra quelle fastidiose O quelle comunque Che possono risultare Appunto Più sensibili Al microfono Quindi Prendono la campanatura Fanno Frequency sweep Vanno Avanti E indietro Con Con La La frequenza Nell'equalizzatore Tante altre Insomma Quindi A me Questo microfono Sinceramente Mi piace tantissimo Io lo consiglio Veramente A tutti E Questa canzone Si chiama Embrace the future Sentite un po' Have you not realized That the power is in your hands Yeah No This is just a revolution What do you think of For you just might stand up I think you've got your depression In the act of serious vision Is this just a revolution 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 Grazie a tutti